Incidente fortunatamente non grave nel pomeriggio di sabato 21 settembre poco prima delle 15 sulla provinciale 460 nei pressi della Rotonda per frazione Mastri sul territorio di Rivarolo Canavese. Una Renault Kangoo condotta da una donna è uscita di strada attraversando la corsia apposta e terminando la sua corsa nel posto che costeggia la carreggiata. Una vettura che proveniva dal senso opposto condotta da un uomo con una pensionata a bordo ha visto la Kangoo sbandare ed è riuscita a rallentare per poi fermarsi in tempo evitando così lo scontro frontale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Bosco Nero nonché l'ambulanza della Croce Bianca Volpianese. La donna fortunatamente è rimasta illesa riportando solo lievi contusioni e dopo le prime cure sul posto non ha voluto andare in ospedale per accertamenti. Grazie a tutti.